hi guys sono le 2 am ora locale per le strade di osaka immaginiamo questa città è veramente good 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 guardate che monnezza a me piace vivere nella monnezza quindi le città con la monnezza sono le mie città sto tornando in my hotel guardate che ci guarda qua è strontato guarda Antonio Einstein in Giappone cool allora è cool e fashion come fai ad avere i soldi se non lavora allora spaccia la scerpa oppure si prostituisce ma in gramma è stato senza pensiero frà pinza a campana frate ma comunque ragazzi questa è stata una vai 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 frate ma good 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 night guarda che bella bicicletta oh bui pistrello bui pistrello assolutamente venoso ce la porta in infezione noi siamo in unten a tempo è sembra intermittente in tempo in tempo in tempo in tempo in de nigh sulle la popsa ragazzi Sfagliamo sti luoghi comuni, in Giappone più ci vieni e più ti accorgi col tempo, sta perdendo la tradizione, forse l'ho ritrovato un po' a Okinawa, perché secondo me Okinawa non si sente proprio il Giappone, si sente uno stato per sé, comunque, stava stata una beach, beach on the beach, femmine, o me ne vanno spassi, gli occhi neri, gli occhi blu, non mi sono rimasto nemmeno niente, ci sono venute tutte entro il locale o niente. Diciamo che il Giappone ormai ha perso questa tradizione di immaginario popolare, gente metropolitana, come penso, no? Io sono molto occidentalizzati, ho detto bene? Yes, ma la Francia, stai dicendo cosa giusta. Ecco, il suono di Tannunzi, no, che è? Alcione, alcione, io apri il piede Alcione, questa va a Tannunzi Alcione, i francesi pure la poesia di Tannunzi ci copiano. Oltre alla Gioconda, pure la poesia di Tannunzi, Alcione, Alcione. Accompagnatemi a te, lo voglio. Quindi sfatiamo questo luogo comune del Giappone, Fiori di Pesco, Fuoriciglieggio, Fuori di Pesco Costanzo, perché Pesco Costanzo sta vicino, come sono, come sono, vincenno a camperare, quindi. Good light, eh? Bicycle, yeah! Dopo qua la bicetta, non sei nemmeno, non sei nemmeno portare, più oggi siamo a Amsterdam, prima di te, sono a sinistra, ci sono in briache, l'appena mattino, capito? Comunque, Osaka, venito a Osaka, vedi venito a Osaka, venito a Osaka, perché adesso è verde, però non mi va di correre, perché è come una, porco giusto non mi corre, adesso è rossa, come una, l'old school con la new school, è rossa. E' che tu, com'è Napoli, capito? Camini per il centro? Posso fare? No, 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 non posso, forri. Camini per il centro? E dopo ti ritrovi i quartieri spagnoli, capito? E poi guardarsi che camini per il centro, vedi una cosa futuristica, e dopo ti ritrovi in un quartierino, stile giapponese, capito? Come piace a voi, voi turisti, voi turisti, con le palle, con le cose, voi fate la foto, sono passati in Giappone, ok? Ci siamo a spiegare, abbiamo capito un po' com'è sto il Giappone? Guarda voi, taxi molto futuristici, sembrano macchine d'epoca, ma sti bastardi ti chiudono dentro, e se non paghi non ti fanno uscire. Gli sportieri sono automatici, tin 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 tin. E poi arrivano alle 5 di mattina, le altre tre ore, e poi faccio la doccia, faccio una pisciata, una cagata e ci penso, come diceva Salvatore Conte, il rosso non viene mai, mamma mia! Accompagnatevi a mia casa, eh? Guardate, osaga by night! Ma lui mi ha già fatto la serata con gli egiziani, sono simbatici, eh? Gli dicevo, touch, 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 e quello non touch, che cazzo mi fa? No, è più brutto degli egiziani, si è preso una bella, una bella, una giapponesina, mezza cesta, se ne è portata da qualche parte, no, questo... Comunque, io vi saluto, l'operazione è ufficialmente finita, domani mi trasferiscono insurance, my insurance, a Pechino, non so perché, quindi domani vado a Pechino, vi saluto, e come ogni fine operazione, voglio... Oh, fratimo! Ok, posso aiutarti? Ok? Ok, sordi! Ah, vedi? Qua è più, più fermata! E come sembra, lui? State senza pensieri! Un saluto forte da Tonino, Osaka, operazione The Way of the Warrior, eh? Guarda l'inglese, acciacca, eh? Tu acciacca mi sembra! Ciao! Un modo da cacca? Dun 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 ... Voi ti immagini del ziappo in ergio sarà prima di andare in Cina! guarda bene, guarda bene ciao